dunque sempre proseguendo sul sentiero di prima cioè quello dritto dal famoso trivio giungiamo a un incrocio il sentiero prosegue davanti a noi ma anche gira a destra molto bello qua ma anche gira a sinistra come il pd qui è sentiero aperto ma con un manto verde bossivo elfico e delle fanciulle seminude che si toccano proseguiamo sulla via principale